Come diceva lei, il Piemonte è all'avanguardia sul digitale nel panorama italiano, però poi quando guardiamo all'estero, guardiamo all'Europa, addirittura oltreoceano, siamo un po' il Piemonte e l'Italia in genere tendono a sparire per quanto riguarda innovazione tecnologica e digitale e tutto quello di cui abbiamo parlato finora. Sì, il quadro italiano è purtroppo, e qua bisogna fare la solidà, è un quadro molto negativo da questo punto di vista perché sono anni e anni che sistematicamente i dati di Eurostat e di Istat confermano che l'Italia è sistematicamente il 24esimo, 25esimo posto su 28 su quasi tutti gli indicatori. Uno su tutti pare gli ultimi dati sull'e-commerce e soltanto il 7% delle aziende fa e-commerce in Italia quando i dati spagnoli, tedeschi, francesi, britannici sono 3, 4, 5 volte questo dato. Allora, da questo punto di vista il Piemonte ha dimostrato di poter fare alcune cose interessanti, però bisogna veramente fare un balzo per superare la media molto bassa italica e per avvicinarsi invece con quelle regioni, se pensiamo alle regioni, pensiamo alla Catalonia, spesso ci vogliamo confrontare con Barcellona. Ma ecco, c'è ancora molto lavoro da fare. C'è il rischio quindi concreto che il Piemonte si possa magari vantare, come ha fatto tante volte in questi anni, del suo passato glorioso per alcune iniziative di punta, salvo che poi non c'è la fase 2. Ma non basta essere start-up, bisogna anche fare il follow-up, cioè essere capaci a implementare correttamente e far crescere le buone idee di cui uno è stato capace di generare.